Si chiama Rasaz Misirovs, è un dottore straniero, se non ero scossese, e pensate che questo medico ha assistito ad un evento, o meglio ad un episodio, veramente incredibile. L'episodio riguarda, pensate, un uomo, il quale ha trattenuto uno starnuto mentre era alla guida della sua automobile e del suo veicolo, e pensate che questo uomo è finito dritto dritto in ospedale con un bel buco in gola. L'uomo infatti ha voluto trattenere il relativo starnuto per evitare di creare rumori molesti, rumori troppo forti o assordanti, andando a trattenere lo starnuto però ha creato una vera e propria rottura al suo corpo, alla parte interna, creandosi in maniera autonoma, delicata, un vero e proprio buco. Lo stesso uomo, dottore in questione, che ha assistito a tutto quanto, ha fatto sapere, vedendosi davanti, di evitare che qualcuno compia ancora il giusto in questione. In particolare il dottore avrebbe detto, non fatelo, rischiate infatti tutti di soffocare, avete uno starnuto da fare, da compiere, fatelo, ma non bloccatelo, questo è l'appello che l'uomo ha voluto mandare. Insomma Rob Rasals è rimasto colpito, questo dottore. Non si siano originalità di questo volo che è il buon in gola, iscrivetevi ai commentati, ciò è tutto.